ok andiamo ne veniamo alla mo ci sarà meno di dieci minuti gaia che parla acqua ci dovrebbe essere varl ha portato tutti quanti qua guarda stai agitando un martello erend vedi di andarci piano queste dita a salsiccia non me lo rendono facile sai indietro segui la linea a destra l'altra destra voglia la lascia stare lascia stare beccato si chiamano con cassion beat party mi pare questa sì che musica a quanto pare qui varl dice che ti potrebbe servire aiuto con queste cose complicate abbiamo ancora molto da imparare ovviamente non si diventa cacciatori in un giorno vedo che avete tutto sotto controllo dovrei portare questo a gaia bene noi restiamo qui per metterci in pari in fretta comincio già a sognarli questi glifi beh mentre tu stavi bighello nando io invece ho studiato i terranumi insieme a gaia per come la vedo io tu devi metterti in pari forza si iole ma non per l'armatura non tutti e 17 mi pare 4 ne dice nel video ho dato il tuo messaggio a talana si è diretta al campo oseram che stavate cercando a sud ovest chissà com'è stare lassù nello spazio abbiamo fregato un po di roba la gente che è appena arrivata gaia ti ho portato poseidon ben tornata aloi quando sei pronta ti prego di unire poseidone a me dopodiché ho un'importante questione di cui discutere allora di che volevi discutere in tua assenza ho ricevuto una trasmissione insolita sulla frequenza di ilizia ilizia è una delle sotto funzioni che non rilevare esatto la trasmissione era così lenta che inizialmente poteva sembrare solo una sequenza di dati inviata per errore sentiamo bene una volta notata l'anomalia mi ci è voluto del tempo per decifrare il messaggio coordinate dove conducono a una montagna nord ovest di questa struttura un avvertimento aloi è possibile che la trasmissione sia autentica ed è anche possibile che sia stata inviata da qualcuno o da qualcos'altro sospetti che non sia ilizia non sono certa cos'è un sos un codice del mondo antico per le emergenze una disperata richiesta d'aiuto sentiamo prima ilizia che cosa perché ilizia avrebbe inviato una trasmissione in codice su una frequenza che potete usare solo voi due credo fosse una precauzione per evitarne il rilevamento o almeno per dare l'impressione che questo qui fosse l'obiettivo inoltre non saprei dire per quale motivo ilizia si aspettasse che avrà individuato e risposto al suo segnale d'emergenza per quello che ne sa lei io non sono più attiva va bene quindi o ilizia è nei guai e ha inviato il messaggio sperando che tu lo ricevessi o qualcun altro ci sta spingendo verso quelle coordinate fingendo di essere ilizia è la mia stessa conclusione possibile che la stiano inviando gli zenith stando ai dati che ho esaminato sul tuo focus gli zenith hanno recuperato l'altro root kernel di gaia dal laboratorio di ade è plausibile che l'abbiano usato per accedere alle mie frequenze interne allora l'avranno mandata sperando che rispondessi rivelando la tua posizione possibile tuttavia la trasmissione è molto irregolare se l'intento era spingermi a rivelare la mia posizione mi sarei aspettata una comunicazione più di routine giusto allora forse non sono loro hai detto che le coordinate indicano una montagna nord ovest cosa c'è lì non mi risulta ci sia niente di particolare in quell'area va bene e invece l'altro numero nel messaggio due tre sette certo sai cosa significa ho provato a cercare nei database disponibili ma non ho trovato alcun significato specifico forse il suo significato può essere compreso solo presso le coordinate indicate d'accordo andrò lì e cercherò la fonte della trasmissione lo farai da sola non penso era di no ho incluso a rende varla nella riunione attraverso il loro focus e concordo sul fatto che non dovresti indagare da sola se fosse una trappola certo che potrebbe esserlo ma se fosse davvero ilizia allora sarebbe nei guai e devo portarla via da lì tranquilli farò attenzione veniamo con te finalmente almeno si rendono utili fate i bagagli ci trovi all'uscita ovest nel caso ti serva ancora tempo ok 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 ma ora mi arriva il messaggio dell'abilità ho aperto un'altra stanza nell'area comune principale ah sì molto bene controllerò appena posso andiamo eccola qui pronta a partire ma sì che teniamo da fa ancora qua guardate tre veterani che stanno per partire verso l'ignoto e rende se giobbriaco giobbriaco era come parla sembra ubriaco adesso ti seguo ma non scrivo che devo fare un giro con enzo ok va bene buon giro questo segnale doveva proprio arrivare dalla cima di una montagna oh questa è una di far zenith per coca direi proprio di sì che cos'è che diavolo hanno distrutto lo scuso è morta sono morti tutti porca miseria vabbè questa è nuova sì sì io l'ho letto ho detto buon giro con enzo ho letto ho letto ho pure risposto vai tranquilla vediamo se possiamo recuperare l'arma degli zenith voglio l'arma degli zenith è bella è bella noi spezioniamo l'area cominciamo dalla zenith brava beh ovviamente ci sono più zenith di quanti sappiamo assurdo tu ne abbia combattuto uno a momenti mi ammazzava la neve scricchiola sotto i miei passi non so come ma i ribelli hanno distrutto il suo scudo cosa ci faceva qui posso accedere alle sue ultime comunicazioni ma userò il focus anche per ispezionare il campo di battaglia che mi dici di quell'arma pazzesca che usava che c'è la faceva comparire e scomparire a piacimento che cosa mi dici ma ora non c'è ho guardato ovunque nessuna traccia della risorsa la smettiamo con questa ricerca inutile non dimentichiamoci chi è stata a lasciarla fuggire vorrei dei risultati entro il tramonto pensi di potercela fare oh hanno abbattuto pure una riera robot mi sembra di vedere qualcosa eh si mi ha abbattuto anche uno dei robot questo specter aveva l'ordine di aiutare nella ricerca della risorsa chissà di cosa parlano lanciadardi degli inseguitori vediamo un po' vediamo come posso usarla e va bene ma se non c'ho nulla da combattere e che mi serve quella forse mo' che parlo con erenda ah no 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 aspetta 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 c'è un'altra cosa qui vediamo un po' brucia eh si esce il fuoco devo scoprire come funzionava non è che ci vuole tanto a saperlo ma è meglio aspettare che si raffreddi vabbè aspettiamo che si raffreddi ok allora c'è altro qui esaminiamo il cadavere e un'altra cosa là un oseram con un focus stava inviando informazioni sull'arma da qualche parte che si sia riattivata una delle parti una subrutin i ribelli sono stati accampati qui per un po' stavano tenendo d'occhio l'area perfetto credo di aver capito cos'è successo qui meglio tornare da Erend Erend vieni qua ti faccio il riassunto colei che vede l'invisibile che cos'hai scoperto? l'attacco era pianificato con cura c'è un accampamento lassù i ribelli tenevano d'occhio questa zona almeno da qualche giorno hanno aspettato l'arrivo degli zenith per mettere alla prova quell'arma gli zenith hanno scudi personali che li rendono invulnerabili ma credo che quell'arma li elimini ok questo l'abbiamo capito l'oseram che la manovrava stava inviando dati da qualche parte forse era solo un prototipo conosco altri che lo fanno una specie di prova prima di rivelare la vera arma si vede che non era ancora completa visto che è esplosa eh probabilmente cercava qualcosa che aveva perso il suo drone doveva recuperare una cosa chiamata la risorsa ma che cos'ha? cosa che sia la sottofunzione di cui stavi parlando ilizia? non saprei forza andiamo da Varla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti